Siamo sul molo di Pesaro, come vedete abbiamo le scarpe nell'acqua e l'acqua che vedete è quella del mare che entra da quella fessura lì e praticamente arriva fin sopra la banchina del porto. Qui ci sono i detriti di un'intera nottata di mareggiata, anche qui ci sono seri danni che il mare ha procurato, praticamente sotto i nostri piedi ci sono i ciotoli che il mare ha portato fin qua e poco fa prima di registrare il pezzo il mare è entrato impetuoso da quella apertura che si è creata lì tra la banchina. Alle nostre spalle c'è il ristorante La Rotonda che praticamente è proprio adiecente alla banchina, questa notte la forza del mare, le onde hanno sfondato le vetrine entrando con forza all'interno del ristorante e adesso cercheremo di farvi vedere le immagini e la situazione del ristorante in questo momento. Siamo all'interno del ristorante, i danni sono evidenti, questa notte il mare è entrato con forza, vi ha sfondato addirittura le vetrate. Noi siamo qui da circa 62 anni ed è la prima volta che succede una cosa di questo genere, una concomitanza probabilmente, una marea molto alta e le onde che erano per me forza 4-5, ci ha sfondato completamente tutto, i danni sono ingenti, infatti siamo anche abbastanza delusi e arrabbiati perché ce la caveremo come sempre da soli. Siete accomunati anche da Ciavarini che è un altro ristorante che quando sfonda il fiume va sott'acqua, però per voi è stata un po' la prima volta perché così non si era mai visto? Non si era mai visto, noi in 62 anni, questo ha una forma molto particolare, ha sempre tenuto a botta qualsiasi tipo di trombe d'aria e questa volta invece, ah guardi, guardi quel masso lì, quello è l'evidenza di tutto, un masso da 200 kg proiettato a 15 metri. E quindi insomma è evidente la forza del mare, adesso cosa farete? Siamo già qui dentro, non ci arrenderemo mai e quindi da quest'oggi iniziamo a rimetterci a posto come facciamo sempre da 60 anni, sempre uguale, sempre così.